Ciao ragazzi, questo video è per mostrarvi la coreografia a cui prenderete parte durante lo spettacolo. Siamo nel momento in cui sta per entrare Belcore, il più grande esploratore di tutti i tempi. I suoi soldati, che arriveranno in scena prima di lui, vi mostreranno con dei gesti come ci si comporta durante l'esplorazione di luoghi lontanissimi. Imparate per bene tutti i movimenti, così poi potrete farli proprio insieme a loro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.